buongiorno a tutti cari amici benvenuti alla puntata di oggi di 58 seconds review la mia rubrica quotidiana in cui come sapete vi racconto i dischi che più mi hanno colpito come sempre vi chiedo se vi piace questo format la gentilezza di iscrivervi al canale youtube mettere mi piace le recensioni che eventualmente vi piacciono e se vi va commentarle grazie oggi vi parlo di un disco che si chiama one hundred ghosts ed è stato realizzato lo scorso anno da patrizio fariselli per la warner perché ne parlo oggi perché ieri sera sono andato a vederlo dal vivo insieme all'area open project ed è musicista straordinario se il jazz è curiosità fariselli sicuramente è un jazzista puro al cento per cento in realtà non lo è ma questo disco dimostra tutte le sue curiosità le sue ricerche è un album molto molto intenso con dei pezzi straordinariamente contemporanei ma anche vecchi di oltre 2000 anni quindi un disco che sicuramente non mancherà di incuriosirvi e che vi consiglio di ascoltare in particolare del golem e la title track ciao e presto grazie a tutti grazie a tutti